Ho sempre desiderato riceverla, perché mi sono sempre sentita solbiatese, mai fagnanese, infatti in chiesa, giornalaio, qualsiasi cosa, sempre solbiate, perché lì io mi sentivo facente parte dalla comunità e quindi sono molto contenta perché corrisponde proprio al mio vecchio desiderio, tant'è vero che mio figlio ha fatto la cresima assorbiate, la comunione assorbiate, mio marito ha voluto tutte cose che si facesse i funerali assorbiati, perché lì è il paese in cui mi sento parte. E al quale mi hai dato anche tanto, perché mi raggiungi anche questo. Allora è da tenere, così, i fiori li avviciniamo, ci ho fatto appunto, perfetto.